Passerei ora alle Romane. Inizierei dalla Roma, quindi da Roma-Salernitana, che ho visto quasi tutta la partita. Partiamo dalle note positive. Belotti. Belotti che finalmente si sblocca come decetelare. Trova una doppietta, ma in generale ho visto molto bene il Gallo. Gran partita a livello proprio di atteggiamento. Poi segna il gol e lo annullano, ma lui continua. Il primo a gol, ragazzi, è un gol dal vero Gallo-Belotti, che trova poi la doppietta che consente il pareggio dei giallorossi. A proposito, il secondo gol di Belotti è difesa della Salernitana da terza categoria. Saltato completamente da fermo con i difensori immobili della Salernitana. Quindi su questo sicuramente Polo Sosa si sarà arrabbiato e non poco. Eterno Antonio Candreva, che segna un gol più bello dell'altro. Il primo anche semplice per esecuzione, nel senso che si è accentrato e ha calciato. Sappiamo che Candreva non ha un brutto piede, anzi due brutti piedi, dato che è il secondo gol di sinistro. Davvero molto bello. Candreva ha 36 anni, ancora decisivo per la Salernitana. Una Roma che nel primo tempo mi è piaciuta, nei primi 30 minuti soprattutto, dove ha tenuto un bel ritmo, ha giocato in qualità, ha uno o due tocchi. Mi è piaciuta War, meno sicuramente Christensen, che è stato praticamente invisibile. Smalling dietro si è fatto, diciamo, beffare da Candreva abbastanza malamente nel primo gol. Comunque ci sono delle note positive nella Roma, come Belotti, il primo tempo, Aguar, anche l'ingressi non di Paredes, Renato Sanchez, non mi sono proprio dispiaciuti. Però c'è da aggiustare sicuramente qualcosa dietro. Ripeto, senza Matic la Roma perde tanto, secondo me, a livello di equilibrio. Quindi c'è da lavorare anche in casa giallorossa. E poi c'è Lecce-Lazio. Non ho visto questa partita perché ho visto la Juventus. Ho dato un'occhiata agli Elites. Mi ha stupito il Lecce. Praticamente è arrivata la vittoria contro Lazio come l'anno scorso. Ribaltone. Ho trovato due gol nel giro di pochi minuti. Da quello che ho capito, il Lecce ha giocato per tutta la partita, ha provato a giocare e ha creato tutta la partita. È sempre stata in partita. Lazio che non ha chiuso questo match dopo l'1-0 del solito. Ciro Immobile, che quest'anno per me tornerà ai suoi numeri. Quindi tre punti pesantissimi per il Lecce. Molti giocatori personalmente non li conosco, quindi sono curioso di vedere anche questo Lecce. Ma in generale, ragazzi, Lecce-Verona, ma anche Frosinone, che comunque sono tre tra le candidate a retrocedere, ci hanno un po' stupito tutti. Lecce ha vinto contro Lazio, il Verona ha vinto un potenziale scontro salvezza contro l'Empoli, e poi anche il Frosinone ha fatto bella figura contro il Napoli. Quindi potrebbe essere veramente un campionato equilibrato, bello, sia nelle parti alte della classifica, sia nelle parti basse della classifica. Fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo a questa prima giornata, poi parlerò anche di Torino-Cagliari e del Milan, che affronterà il Bologna. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel percorso. Grazie. 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 Grazie.